Pronti questo vaso YouTube? Ci sei? Prima di tutto, applauso il pulmo, applauso, vai e gira! E per parti, vado a presentare loro! Lei, sposata un mese fa, ma già si è pentita! Con lei che non vuole fare me, non vuole mettere le foto su Facebook, se no tutti gli amanti la scoprono! Lei, che è un grande personaggio, ex porno star, forte l'applauso alla prima sorella, Clara! Stasera si ubriaccherà con una mina, e poi presento l'altra, single, ormai da anni, mi dicono gli amici, grande Maiala! Lei, che quando si fissa, si fissa, fessatissima con i vestiti, fississi qualsiasi cosa, ragazzi chi la tromba gli offre una settimana gratis, la prossima gliela pago tutta io! Forte l'applauso a Enchie! E poi parte il cuore, Maiala! 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 E poi, dietro di lui, nonché c'è lo stigato del marito, lui che la segue, cioè, segue una, ma la realtà è che si fa tutte e due, non lo sanno neanche loro! Forte l'applauso, un interista doc, Andrea! Allora, un saluto anche, girati, uuu, un uomo, un saluto di un mio amico, Gabriele, Gabriele, ammazzo, ti d'ho creato un po' chiudo! Allora, ragazzi, ci...